Avviati a Trinitapoli i lavori di ripristino del Parco degli Ipogei per riuscire a rendere fruibile l'area ai visitatori e riaprire il sito archeologico di Valenza Internazionale per le scoperte fatte negli ultimi 30 anni, così come ha spiegato Anna Maria Tunzi, responsabile della soprintendenza ai beni culturali della Puglia, presente all'apertura del cantiere. Noi contiamo veramente da oggi di iniziare una nuova e definitiva stagione che comportino soltanto il varo definitivo del Parco come luogo di fruizione, ma al tempo stesso ci consenta di concludere l'indagine archeologica dell'ultimo in ordine di tempo degli ipogei rinvenuti, appunto l'ipogeo dei fermatreccia che ha già dato nelle prime campagne di scavo che lo hanno riguardato dei risultati straordinari. Saranno costruite nuove passerelle lungo gli scali e realizzata una nuova area per i visitatori dove sono stati trovati gli ultimi reperti. Il sito archeologico sarà inserito nei circuiti culturali tali da consentire ai cittadini la fruizione. Noi oggi iniziamo i lavori che mettono in sicurezza le varie parti del parco, come le passerelle per raggiungere gli ipogei, gli scavi, le staccionate che sono di protezione per i percorsi, per le visite. Quindi diciamo che con questi lavori noi renderemo fruibili al 100% tutto il parco degli ipogei. Trinitapoli compie un ulteriore passo avanti nella direzione della cultura. Dopo il museo aperto nel 2012, questo passaggio va a rafforzare l'offerta turistica. Così l'assessore alla cultura Marta Patruno ha commentato l'avvio dei lavori sul sito archeologico. L'amministrazione, ma soprattutto la nostra comunità Trinitapoli, compie un passo avanti nei confronti del culturo, un ulteriore passo avanti rispetto all'apertura del museo. Un'altra importante opera, un altro importante progetto è quello di Salapia. Infatti qualche giorno fa sono anche cominciati i lavori di scavo nel territorio di Salapia. Noi cercheremo di valorizzare al massimo la cultura e quello che è il nostro territorio. La soddisfazione del sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, per l'avvio dei lavori che entro il prossimo anno porteranno al completamento della nuova, la ristrutturazione della vecchia e l'apertura del nuovo parco degli Ipogei. La realizzazione di un sogno. Da tempo aspettavamo veramente che il parco potesse essere restituito alla città e perché no, io dico all'intero patrimonio culturale e umano della nostra nazione. Perché finalmente noi possiamo dare vita a un qualcosa che raffermo da troppo tempo, in maniera, voglio dire, anche inaccettabile. Provate a immaginare, una volta aperto il parco, una volta aperto definitivamente il secondo piano del museo, come l'intera economia potrà avere uno sviluppo. Quindi ci inseriremo in quel circuito turistico, religioso, culturale che consentirà a questa città di fare veramente un salto di qualità. E come ho sempre detto, in questo modo non si ferma a una città che cresce.